Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Bisogna dareci in questo video In quei ragazzi In quei ragazzi siamo nel primo episodio In quei ragazzi In quei ragazzi asse in questo video A tutti And I'm not looking, I'm not seeing the mean I just need these little things It's these little things It's these little things Grazie a tutti 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 Grazie a tutti